Albatro Tender 50 La massima espressione nell'evoluzione del concetto di gommone Un concetto, quello del gommone, che da qualche anno caratterizza anche la produzione Albatro International Cantiere storicamente apprezzato per le sue linee sportive e per le sue carene performanti Albatro International Albatro International Albatro International Albatro International Il Tender 50 nasce da anni di progettazione in cui architetti e ingegneri si sono impegnati per arrivare ad ottenere un'imbarcazione unica e inconfondibile Capace di coniugare sportività ed eleganza, comfort e prestazione, lusso e praticità, divertimento e relax Un'imbarcazione lunga poco più di 15 metri e larga quasi 5, che grazie ai due nuovissimi motori common rail della Yammer da 530 cavalli ciascuno e alle trasmissioni della Jolly Special con eliche di superficie, è in grado di raggiungere in totale sicurezza quasi 50 nodi Ora portiamo i motori a 2.500 giri, dopodiché riduciamo leggermente, le turbine sono inserite e per far planare la barca mettiamo la seconda E noi di Non Solo Mare non potevamo certo perdere l'occasione per ammirare ed apprezzare dal nostro elicottero questo gioiello destinato a chi non vuole certo passare inosservato Grazie a tutti Grazie a tutti Albatro Tender 50, imponente ma al tempo stesso raffinato, capace di regalare prestazioni sportive nel più assoluto comfort e in totale sicurezza E con i suoi 15 quintali l'albatro Tender 50 naviga ad una velocità di crociera di circa 35 nodi La console di comando del Tender 50 sembra quella di un jet privato e regala al suo comandante l'impressione di governare il mare Una strumentazione completa e funzionale aiuta il comandante dell'imbarcazione ad affrontare la navigazione con il controllo costante di tutta la tecnologia presente a bordo Segno evidente della cultura sportiva del cantiere, la seduta a tre che richiama molto quella delle imbarcazioni che corrono nel P1 con sedili anatomici per una guida comoda in qualsiasi condizione Ma lo staff dell'albatro Tender 50 si è davvero superato nel disegnare e soprattutto nel realizzare un art hop tanto originale quanto futuristico Una struttura in acciaio inox che richiama le linee del gommone accoglie ampie vetrate in plastic glass offrendo all'equipaggio una visibilità a 360 gradi A poppa invece risalta il rosso della cuscineria che dà origine ad un comodo divano a U in grado di ospitare 12 persone comodamente sedute anche durante la navigazione Due tavoli a scomparsa completano la dinette che all'occorrenza può trasformarsi in zona pranzo grazie anche alla cucina esterna posizionata proprio alle spalle della postazione di comando La sua linea finante e gli ampi spazi esterni non lascerebbero mai immaginare che sotto coperta i progettisti siano riusciti a ricavare due camere, un bagno, un soggiorno e una cucina Dalla console di guida infatti si accede alla zona sotto coperta dove ad accoglierci troviamo un ampio soggiorno ben illuminato arredato con una cucina e con due divani a prua la camera armatoriale ben arieggiata grazie anche all'oblò centrale sotto alla console è stato ricavato un bagno attrezzato con doccia, vc, bidet e lavandino Verso Poppa infine è stata ricavata un'ulteriore camera da letto per ospiti o bambini Una linea accattivante e sportiva con finiture di classe e tecnologia all'avanguardia installate a bordo fanno dell'Albatro Tender 50 un'imbarcazione davvero esclusiva Vivere il mare a bordo di un Albatro Tender 50 per molti rappresenta il sogno di una vita per qualcuno invece il sogno si è già realizzato Grazie a tutti i nostri spettatori 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 Grazie a tutti.